Ci troviamo presso la scuola di ballo Balli sotto la luna. I maestri sono Pina Lizzi e Antonia Liguo. Sempre tante emozioni e grandi soddisfazioni. Da questo saggio mi aspetto, come sempre, di emozionare le persone, ma soprattutto di divertirmi, perché secondo me la cosa più importante è quella, perché alla fine l'esperienza deve essere qualcosa di bello che ci possa rimanere. Qui ci divertiamo e basta, è solamente un divertimento, ma ci sono certe lezioni che vanno prese molto seriamente, come le lezioni prima di qualunque gara, sia a livello regionale che provinciale. Uno che cosa deve dire? Viva i maestri, viva la scuola di ballo Balli sotto la luna. Viva i maestri, viva la scuola di ballo Balli sotto la luna.